Ehi, nuovo, che combini? Benvenuti nella notte, colleghi. Oh, piano. Lei hai messo gli occhi addosso, eh? È già da un pezzo, no? Allora? Non mi offri niente, novellino? Sembra che Marion dei dolciumi ti piaccia parecchio, sbaglio? Beviamo il caffè insieme. Tu le piaci davvero tanto, però non farle del male. No. Ho sbagliato qualcosa. Niente! Non è che ogni cosa ha sempre a che fare con te! Che cosa chiederesti se esprimessi un desiderio? Tutto. Grazie.